perché mi stai guardando? mi do gli occhiali, mi do gli occhiali, c'è problema ah ma per presentazione! scusate, scusate, non ci ho avuto un momento di smarimento totale ciao a tutti, sono Michele Botrugno, sono nato a Roma, vivo a Roma e probabilmente starò a Roma per sempre, ho 36 anni e sono un attore, ho partecipato a diverse fiction diversi film che di conseguenza hanno partecipato a festival internazionali e nazionali vincendo in moltissimi casi dei premi molto prestigiosi. Nel corso del tempo, del teatro, spettacoli, letture che ho affrontato nella mia chiamiamola carriera, chiamiamola carriera, ho avuto modo di avvicinarmi al doppiaggio, sono più o meno otto anni che è diventata ed è la mia professione insieme ovviamente alla presa diretta, al teatro e a chi più ne ha più ne metta, voglio presentarmi così, ecco, in maniera del tutto serena e tranquilla nella speranza di poterci vedere vedere presto, ovviamente sono la cantera che mi rappresenta, sono contentissimo di poter far parte di questa squadra perché mi piace lavorare in squadra, la forza e il gruppo, ogni singolo porta qualcosa ad ogni tipo di progetto. Detto questo ho la possibilità di recitare ovviamente il romano, romanesco, anche se è una lingua andata, vabbè non vi racconto i sonetti, le cose, non vi attaccherei una filippica del genere, non mi pare il momento, e in napoletano, in toscano, insomma, mi è capitato anche in scena di doverlo fare e anche dignitosamente. Detto questo, vi ringrazio, vi ricordo anche che parlo quel minimo di inglese per consentire una comunicazione decente, detto questo io vi ringrazio e grazie per aver dedicato un po' di tempo a questo miserrimo attore.